Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di ChrisMagic22 Allora ragazzi, oggi non siamo qui per un normalissimo video di Summer Guys o di Brawl Stars Dove andrò a giocare delle partite Ma oggi siamo ritornati qui con dei nuovi quiz di Brawl Stars Allora ragazzi, volevo dirvi che in questi ultimi giorni sto migliorando moltissimo con il canale Quindi vi ringrazio molto Vabbè ragazzi, io dico di iniziare perché oltre a questo quiz ce ne saranno diversi altri Quindi oltre a questo video ce ne saranno altri, sempre se riesco Allora, iniziamo con il primo Allora, vi spiego un attimo Allora, io che ne capisco un po' di inglese, ma giusto un poco Allora, il primo è che noi dobbiamo praticamente riconoscere il Brawler dall'occhio Quindi andiamo Vediamo cosa ci dà Vabbè, sceglie Allora, io già l'ho indovinata Solo che vi do giusto Dico la risposta quando scade Almeno vi do un po' di tempo a voi per ragionarci, riflettere E' la 2 raga, è la 2, è la 2 Infatti, come possiamo vedere, l'occhio è di sceglie Quindi è la 2 Fantastico! Andando più avanti Comunque Saranno molti occhi di Brawler Quindi se andiamo più avanti Più livelli difficili ci sono Allora, io l'ho trovata già Comunque quasi tutti Cioè, tutti quanti riusciranno a trovarla Perché è la 5 raga Cioè, è proprio al centro dell'attenzione Si vede proprio che la pelle è marrone raga Cioè, si vede proprio Beryl Allora, si riferisce a Beryl E io raga, direi 6 No! Cioè, lo so Lo so che ho risposto correttamente Ma l'ho detto prima Prima che scadeva il tempo Ad ogni caso Iscrivetevi al canale Che siamo quasi a mille iscritti Raga Il mio sogno Andiamo con la prossima domanda Con il prossimo occhio Bullo Allora, qua già E' un po' difficile Perché già ci sono 12 occhi Ma io già l'ho vista L'ho già intravista Che si vuol dire? Non dico niente ancora Che Raga, è la 8 È la 8 È la 8 Ok Penny Allora Io già l'ho vista E vi do un piccolo suggerimento Che si trova In basso Qui dove tengo il dito In basso Seconda fila E raga È la 12 È la 12 Vi ricordo che io questo quiz Non l'ho già visto Perché voi Se no potrete dire Eh, quiz È un po' tanto il gradasso Che Che le conosce tutte quante Allora Qua vi Vi traduco Cosa vuole dire adesso Adesso Dobbiamo Indovinare Dobbiamo indovinare Dobbiamo indovinare Che ho letto Come si vuol dire L'audio dei brawler Perché l'ho visto in inglese Vabbè raga È Carlo C'è raga È Carlo È il numero Ve lo dico verso la fine Per farvi ragionare Io già L'ho trovato Praticamente È la 4 Raga Comunque io Io Voi dire Cristian Come fai già a spiegare tutto Perché io In inglese Ho visto La Cioè Ho visto Mi sono tradotto in mente Vabbè raga Corro Ok Comunque Volevo dire Che l'ho tradotto In mente mia Quindi non è che sono andato Su Google A cercare Quindi Lo sto traducendo Al momento È l'occhio di Corro È proprio Il numero 6 Infatti Non è che sono andato Non è che sono andato Non è che sono andato Il numero Vabbè raga Dana Mike Dana Mike È le sapore È sapone nel centro Dell'attenzione Questo Questo come si chiama Questo L'occhio Di Dana Mike Il numero Di Dana Mike È Il 13 Vabbè raga Finché non ci fanno Ste domande Allora Io le so fare Pam Raga Questo è Pam Ma Oddio Allora Sono indeciso Tra il 5 24 E l'11 Perché il 12 È quello di Penny Ma Sono indeciso Tra il 5 No Secondo me L'11 E l'11 Sì Ho indovinato E l'11 E l'11 Per il momento Non ho sbagliato Né alcuna Oddio Qua praticamente Dobbiamo indovinare La star power Del brawler Infatti C'è scritto Prinalto Sì Vabbè Ma questa Allora È del primo Questa star power Ma dobbiamo Indovinare Anche l'occhio Che io vi dirò Verso La fine Del timer Infatti Il numero È 3 Ok È Il primo Ok Questo è di Mortis Già l'ho vista Dalla star power Che è di Mortis Ma trovare l'occhio È un po' difficile Allora Raga Io direi Che è il 17 Perché come potete vedere In basso Lo so che l'ho detto prima Però Vedendo in basso C'è un po' di fucsia Che andando a vedere Nella sua icona C'è un po' di fucsia Infatti Quando Ecco Vedete Che è un po' Mi sa che questo è l'ultimo Che c'è scritto 11 su 12 Questo è Frank È Frank Perché me lo ricordo La mano così Che è Frank Ma è trovato Sì vabbè raga Oddio No raga Qui non lo so No raga Io non lo so Io No Non lo so C'è dico Una cazza C'è che È 14 Dove Hai indovinato Ma che è C'è Ho sparato a caso Così ho indovinato Ok ragazzi Fra poco Allora raga Eccoci ritornati qui Adesso Andiamo a vedere Con il prossimo quiz Allora Praticamente Se Ho capito bene Da ste scritte Inghlesi Dobbiamo Infatti Dobbiamo Capire Il Brawler Tramite La sagoma Ma questo È abbastanza Facile Vabbè Procediamo Beh Brock È Nero Perché Non ve lo dico Già Nero Ficare Spam Penni Vabbè Raga Qui È Due Inserisco Un po' Più Tardì Vi ripeto Che Che Di due Tempo Qua si intende Per Maxinio Ok Qua tanto Non c'è È la Quattro È la Quattro Sì perché Hai nomi In inglese Che Perché Non l'ha capito Quindi Jackie La Jackie È Ricocetto Ricocetto Ovvero Stecca Allora Stecca Dovrebbe Essere Il Numero Cinque Ok Seconda Challenge Vediamo Di che Così Dobbiamo Indubinare Sia Che La Sagoma E Anche Il Come L'udito Del Brawler Ovvero Quello Che Dice Il Brawler Come Parole Povera Vabbè Il Colt È Il Numero Tre Immagine Vecchia Ma Perché Tutte Così Facili È La Cinque Geology Rock La Questa Qua È Boh Se Senti Ma Dobbiamo Trovarlo Oddio Non Non Lo So Secondo Me Ah L'ho Indominato Infatti La Questa Oddio Questa La Devo Risentire Un Attimo Ok Boh Non Non Vediamo Capito Ma Qui Non Ho capito Raga Chi È Qua Faccio Farsi Una Figura Di Merda Andiamo A Vedere Andiamo A Vedere Ora Chi È Perché Non Lo So Non Lo So Proprio Raga Secondo Me È Franco No Come Mr. P Vero Mr. P Quando Lancia Le Panigie Ok Dobbiamo Indominare Il Gadget Del Bruner In Questo Caso È Quella Del Primo Ed È Il Numero Non Lo Dico Perché Sennò Vi Domanda Ci Sono Delle Immagini Abbastanza Vecchiotte Perché Quando Ho Trovato Infatti Il Numero Sei Infatti Questo Del Primo È Un Po Pecchio Forse È Stato Registro Primo Eh Non L'ho Mai Visto Sto Gadget Nel Gioco Nel Lo so Raga No Non Lo so Come Be Come Rabea Questo È Iris Dovamo Cercarlo Iris È Il No Che Dico È Il Non Lo dico Non Lo dico Infatti Raga È Il Numero 13 E Raga Allora Comunque Io direi che Andiamo a vedere Sì Raga Il 13 Allora Raga Io direi che Per oggi è tutto Per queste volte è tutto E dai quiz Di Brawl Stars Un Saluto E allora Al prossimo Video Dove Al prossimo video Di quiz Su Brawl Stars Ostambul Guys Ciao